L'immagine che il lago di Santa Croce offre di sé in questi ultimi giorni è desolante. A causa della siccità e del progressivo svuotamento che sta avvenendo allo scopo di dare acqua alla pianura per irrigare le colture, il bacino al pagotto ha già raggiunto la quota che solitamente raggiunge solo verso la metà di settembre. La crisi idrica è stato l'argomento ricorrente nei discorsi delle autorità presenti all'inaugurazione dell'ufficio turistico di Farra d'Alpago. Il sindaco di Alpago, Peterle, considerata la vitale importanza che i bacini idrici rivestono per le imprese turistiche, ha chiesto che le amministrazioni locali vengano coinvolte nella partita che riguarda la gestione del livello dei laghi nella nostra provincia. Il sindaco di Chies dal Borgo, facendo riferimento alla mancanza d'acqua che ha colpito le utenze di Puosse Farra alcuni giorni o sono, ha espresso la convinzione che un territorio come quello al pagotto non possa rimanere senza questa preziosa risorsa e per il futuro bisognerà ripristinare le vecchie sorgenti ed intervenire ove necessario sulla rete acquedottistica. L'assessore regionale Bottacin ha messo l'accento sulla deroga ottenuta riguardo l'applicazione della normativa europea sul deflusso ecologico che, se attuata, avrebbe provocato un drastico calo dei laghi a favore dei principali corsi d'acqua, con conseguenze enormi dal punto di vista ambientale ed economico, e su questa partita ha chiesto il sostegno degli enti locali. Una partita non disgiunta da quella sulla legge che riguarda le concessioni sulle grandi derivazioni in scadenza nel 2029, che potrebbe offrire alla regione ulteriori margini di manovra in materia di risorse idriche.